buongiorno a tutti ragazzi benvenuti in un altro video di mil viviendas oggi ci troviamo in centro in play dell'inglese e entriamo assieme a vedere un appartamento che abbiamo in vendita proprio accanto al famoso centro commerciale jumbo entriamo insieme a vedere come fatto ora siamo entrati nell'appartamento la prima porta a destra troviamo subito la camera da letto con un armadio a muro qui di lato e davanti le hanno messo un altro secondo armadio poi la seconda porta a destra troviamo il bagno un bagno piccolino cieco però qui c'è un bel mobiletto il piatto doccia la lavatrice con carica dall'alto troviamo un altro mobiletto e poi la zona giorno che questa è veramente molto spaziosa e molto luminosa qui ci troviamo nel salone con angolo cottura come potete vedere la cucina è abbastanza equipaggiata c'è il frigorifero con il congelatore il forno quattro fuochi qui c'è un'altra piccola dispensa qui addirittura abbiamo troppi divani uno grande una poltrona un mobiletto e qui il balcone che è stato chiuso si può riaprire l'hanno tutto verandato per ampliare un po il salone però guardate che bella vista da qua qui siamo nel cuore di playa dell'ingles questa è la rotonda del jumbo qui dietro c'è il centro commerciale famosissimo questo appartamento ha il posto auto privato e la piscina comunitaria che adesso scendiamo ci andiamo a fare un giro anche nella zona comunitaria qui ci troviamo nella zona comunitaria vedete c'è il verde e la piscina ve la faccio vedere molto carina super ben tenuto l'edificio bene ragazzi anche questo tour è finito spero che il video vi sia piaciuto che possa essere stato utile per qualcuno se cercate casa alle canarie scrivetemi nell'email che vi lascerò qui giù sotto nella descrizione il prezzo di questo immobile è 190.000 euro tutto il resto delle informazioni le troverete nel nostro sito internet scrivetemi se volete maggiori informazioni e iscrivetevi al canale mettete un bel like e al prossimo video ciao ciao